Siamo quelli del Dublin Pub di Bolzano, un locale che offre ogni giorno un menù diverso e questo è proprio il suo tratto distintivo. Dotato di circa 200 posti a sedere al coperto e di un altro centinaio di posti in giardino, al Dublin Pub utilizziamo contemporaneamente quattro order, perché abbiamo quattro camerieri. Il lavoro all'aperto è molto diverso da quello all'interno, soprattutto a causa dell'esposizione al sole. Il display chiaro ci è piaciuto molto perché tutto è facilmente identificabile e trovare gli articoli e qualsiasi altra cosa è semplicissimo. Adesso stiamo utilizzando insieme il vecchio sistema che funziona solo con la touch pen e quello nuovo, che può essere maneggiato anche con le dita. Il cameriere può scegliere se utilizzare la penna o le dita e i giovani, grazie agli smartphone, sono molto pratici dell'inserimento dei dati con una leggera pressione manuale o per sfioramento. La nuova base di ricarica ovviamente è fondamentale per il nostro lavoro, perché se dovesse davvero succedere che un order ma rimanga senza batteria o questa si scarichi, possiamo comunque coprire un intero turno, perché la base è dotata di una batteria di ricambio già carica. Siamo rimasti anche favorevolmente colpiti dalle nuove dimensioni offerte dall'orderman, con i caratteri che si possono ingrandire, si possono modificare con grande soddisfazione dei camerieri.